Sono passati ormai diversi mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi. La vedova Carlotta Mantovanna, però sembra finalmente aver trovato la serenità Carlotta Mantovanna finalmente sembra aver ritrovato il sorriso. Dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, la vedova si è chiusa in se stessa abbandonando in particolare i social Nelle ultime settimane però qualcosa è cambiato finalmente sembra aver trovato la serenità Carlotta Mantovanna di nuovo felice.Carlotta Mantovanna nelle ultime settimane è ritornata attiva sui social facendo felice primo fan La donna, finalmente ha ripreso ad aggiornare i suoi fallover condividendo con loro i suoi momenti La vedova di Fabrizio Frizzi da poco ha terminato la sua esperienza accanto ad Antonella Clerici conducendo Portobello Malgrado gli ascolti deludenti, Carlotta è rimasta comunque soddisfatta e felice per questa nuova avventura Carlotta Mantovanna felice accanto a Stella.Pochi giorni fa, Carlotta ha postato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia dell'unico amore della sua vita Stella, la figlia avuta dalla relazione con Fabrizio, è il suo unico tesoro e non smette mai di dirglielo La vedova di Frizzi per accontentare la figlia si è concessa un peccato di gola, mangiando un mega gelato con patatine fritte Mamma e figlia, sono molto legate e il loro rapporto è diventato ancora più unito dopo la scomparsa di Frizzi Più volte, la giovane ha ammesso di voler andare avanti senza parlare sempre del suo defunto marito, inoltre ad oggi ha spiegato di volersi concentrare esclusivamente sul lavoro e la propria bambina Carlotta Mantovanna è la passione per i cavalli.Carlotta Mantovanna pare abbia la stessa passione del defunto marito Fabrizio, infatti, amava molto andare a cavallo e dai post pubblicati dalla vedova anche lei e sua figlia Stella hanno lo stesso hobby Le due donne, nei giorni di sole si concedono momenti di relax e di svago cavalcando i loro amici preferiti